Essere tornavio vuol dire non esserci mai fermati di lavorare. Vuol dire instaurare ancora di più un rapporto, oltre che commerciale, un rapporto umano con i clienti. Vuol dire un aiuto alle persone, soprattutto aziane. E che spero che continui nel tempo e che non si perda, nonostante il periodo veramente nero per tutti. Abbiamo modificato un po' le nostre abitudini e i nostri comportamenti e siamo andati avanti a fare quello che facevamo prima. Nonostante avevamo togura soprattutto di là a servire, che non sapevi chi aveva davanti. E vedevi proprio che erano anche spaesati. Cioè, dobbiamo stare in casa ancora, ma possiamo uscire. Abbiamo già un bellissimo rapporto con il cliente. Entra e c'è già pronto il sorriso. Chiaramente, adesso il sorriso era ancora più marcato. Ci siamo sentiti un po' utili. Noi.